Diceva la buonanima del dottor Einstein, se volete dei bambini intelligenti raccontate loro delle fiabe e se volete dei bambini molto intelligenti raccontate loro molte fiabe. Per motivi biochimici, quando noi raccontiamo una fiaba a un bambino, il suo cervello produce endorfine e le endorfine sono straordinari neurotrasmettitori che aumentano la potenza del sistema immunitario, diminuiscono la percezione del dolore, fanno scivolare verso il sonno e aumentano la capacità cognitiva. Ma oltre che per motivi biochimici, la fiaba aumenta la nostra capacità di vivere nel mondo perché contiene degli avvertimenti. Le fiabe contengono delle intuizioni universali sul funzionamento delle menti umane, sono state scritte con l'emisfero di destra e sono dopo secoli e secoli della loro esistenza, sono state confermate dalla psicologia, dalla neuroscienza, dall'antropologia. Attraverso le fiabe noi riusciamo a capire il nostro tempo e la fiaba che più di tutte c'è necessaria è bianca neve. Specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Qualcuno che deve sempre essere il più del reame, ha un io forte o un io razzrappito? Ha un io razzrappito, quello che potremmo definire con un italiano un po' di plastica, un complesso di inferiorità. Un complesso di inferiorità da cui esce solo se lo starà vincitore. Quindi queste persone hanno due posizioni. Il vincitore, il più bello del reame, nessuno. Vincere è terribilmente piacevole, è più divertente prendere dieci che non quattro, è più divertente arrivare primo alla gara che non ultimo, ma quando siamo sconfitti impariamo a rialzarci. Ma se una persona deve sempre solo vincere perché non ha altre possibilità, un'unica sconfitta la nienta. Avete notato che la regina chiede allo specchio, chi è la più bella del reame? Non potrebbe deciderlo da sé? Biancaneve è in cortile, dunque più carina lei, più carina io. Lei è sedere basso, io i brufoli, più carina io. I brufoli potrebbero guarire. No. Queste persone hanno un io razzrappito, non si fidano del proprio giudizio. Devono sempre essere riconfermate. Hanno bisogno di un giudizio esterno, meglio se numerico. Il concorso di Miss Mondo, Miss Universo, Miss Qualche Cosa. La bilancia, specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Quando saliamo sulla bilancia, noi donne vogliamo sapere la misura del nostro valore e se e quanto valiamo più delle altre. C'è una sola cosa che mi rende più felice di aver perso un chilo. La mia vicina di casa ne ha presi tre. Sì, il voto a scuola è molto meglio prendere dieci che prendere quattro, ma il voto è un voto alla mia preparazione, non alla mia personalità. Resto me stessa anche se sono stata bocciata. La ricchezza è molto più divertente essere ricchi che essere poveri, ma di nuovo il denaro è solo un mezzo per incidere sulla realtà. Non mi dà una misura del mio valore. Non è la mia identità. Lo specchio per levarsela dai piedi, perché non ne può più di questa pazza che è lì 40 volte al giorno a chiedere chi è la più bella del reame? Questi non memorizzano. Devono sempre essere riconfermati. In continuazione, ma sono bella, questo vestito mi sta bene. Ma sei proprio sicuro che mi sta bene? Non mi sta meglio quello blu? È una cosa continua. Lo specchio non ne può più. Per levarsela di torno le dice che è più bella biancaneve. Non è vero. Noi che abbiamo visto il film della Walt Disney, sappiamo che la regina Crimilde è molto più affascinante di questa gallina squittente che fa i lavori di casa cantando. In effetti, nel film Il fratello Grimm e l'incantevole strega, o insomma Il fratello Grimm e la strega, la strega di Biancaneve la facevano fare alla Monica Bellucci, che è una strafiga imperiale. Prima o poi incontrerà la fata Madirina, che la tocca con la bacchetta magica ed imparerà a recitare. Fino a quel momento non ci sono speranze. Per poter uccidere Biancaneve, la regina ha la mela, la mela è piano B, la regina è un piano A e il piano A è il cacciatore. Il cacciatore, quindi, è uno dei personaggi più straordinari e noi dobbiamo sempre ricordarlo. Dobbiamo portarlo con noi. Dobbiamo spiegare la sua grandezza ai nostri figli quando gli raccontiamo la fiaba. Il cacciatore di Biancaneve ha ricevuto l'ordine dalla sua regina di assassinare una bambina e non lo esegue. Non va a piagnucolare il processo che quelli erano i miei ordini. Non lo esegue perché non si uccidono i bambini. Le regole morali devono essere rigide. Nella nostra epoca, il postmoderno, c'è l'impressione che la parola rigido sia una parolaccia, mentre la parola flessibile è tanto bella. Sì, in alcuni casi, in altri no. Le regole di assepsi di una sala operatoria devono essere rigidissime. Le regole di sicurezza di una scuola, altrimenti i soffitti collano sulla testa degli alunni. Le regole di una sicurezza di una centrale nucleare, a Cernobil, erano state violate. Le regole morali devono essere etiche. Non si uccide un bambino. Punto. Basta. E così è basta. Non bisogna cominciare a essere flessibili, ma se non lo faccio mi ammazzano, se non lo faccio io tanto lo farà un altro, tanto vale. Devono essere rigide. E il cacciatore morirà, lo sappiamo. Ma è molto meglio morire per qualche cosa che vivere per nulla. E morire per non aver assassinato un bambino è una buona causa per cui morire. Il cacciatore di Biancaneve ci ricorda che la responsabilità è personale. Io sono responsabile di tutte le mie azioni. Se una persona malvagia mi ordina di fare un'azione malvagia, è responsabile. Sono io. L'altro sarà responsabile di averla ordinata. Un altro reato che non annulla il primo. Altrimenti, è sufficiente che mi vada al governo uno che ha un cortocircuito cerebrale e ci facciamo milioni di morti. La responsabilità del terrorismo è del terrorista. Non della situazione politica, economica, sociale. Signori, non esiste un terrorismo tibetano. Non esistito un terrorismo almeno. Gli ebrei dopo usciti da Auschwitz non sono andati a far saltare gli autobus scolastici in Germania. Il terrorismo nasce da una cultura di morte. E il responsabile è il terrorista. Non esiste produttore di armi che produrrà il mitra con cui io sparerò su degli innocenti. E non esiste produttore di esplosivo che produce l'esplosivo con cui farò esplodere degli innocenti. La responsabilità è personale. L'uomo ha il libero arbitrio. L'ha chiuso in quella straordinaria parola che viene detta nella Genesi. Timschel. Quando l'angelo va a parlare ad Adamo ed Eva. Timschel vuol dire tu puoi. Tu puoi fare. Tu puoi non fare. Tu hai la scelta. E il cacciatore avverte Biancaneve che la matrigna vuole uccidela. E lei scappa in questo bosco pieno di ombre che sembrano mostri. E noi abbiamo paura con lei. Le fiabe devono contenere la colla, la paura, la vergogna. Devono essere violente. Devono contenere le emozioni negative. Gli arriva dei sette nani. Figli, credo, di genitori tossicodipendenti e acolizzati. Visti i nomi che gli hanno dato. E dato che Biancaneve è tanto carina, ma quaziente intellettivo si fa quel che si può. Dato che i nani sono bassi. Parla come se fossero bambini. Vi siete lavati le manine? Scusa un attimo figliola. Questi hanno la barba bianca. Hanno 80 anni. Tu sei a casa loro. In realtà, Biancaneve parla ai nani come fossero bambini. Perché i nani sono la metafora, la rappresentazione di un mondo bambino. Qual è la fondamentale caratteristica dell'infanzia? L'impotenza. Un bambino può essere preso, venduto, ucciso, abusato, messo su un treno. Quando il mondo diventa intollerabile, terribile. Il sogno di tutti i bambini è scappare in un mondo bambino. Dove nessuno sia più alto di loro. E la regina di Biancaneve, pur di distruggere Biancaneve, fa il supremo sacrificio, la sua vita e la sua bellezza. Cioè, dentro Biancaneve noi abbiamo lo schema del perdente radicale. Biancaneve ci spiega il genocidio. Il perdente radicale è colui che nel momento in cui ha perso, distrugge la se stesso e distrugge il mondo, pur di distruggere chi l'ha battuto. Adolf Hitler è un perdente radicale, il terrorista suicida è un perdente radicale. In questa geniale fiaba c'è la tragedia del XX secolo. Cari amici, siamo sicuri che ad alcuni di voi questo video è piaciuto molto. E siamo sicuri che alcuni di voi avrebbero gioia a poterci aiutare a fare altri video come questo. Per farlo ci sono due modi. Uno, con una donazione a questo conto corrente. L'altro, sceglierci con il 5x1000, dando al vostro commercialista questo codice fiscale. Grazie